Mattia e Federico ci presentano le novità di Immergas, parali prima di te. Sì, buongiorno innanzitutto, io sono Mattia Pitaluga, agente Immergas e oggi vorremmo presentarvi un prodotto innovativo e sensazionale che è il Magis Combo, alle mie spalle. Il Magis Combo è un prodotto ibrido, composto da pompa di calore esterna e unità a condensazione con modulo idronico interno. Le potenze disponibili sono 5, 8 e 10 kilowatt e tramite l'acquisto di questo prodotto si può accedere a diversi gravi fiscali, ad esempio il bonus del 65%. Una cosa molto importante acquistando questo prodotto è la possibilità di usufruire e di avere il privilegio di vantare un centro assistenza che nel nostro territorio è conosciuto ed efficiente, che è Genova Gas, che garantisce 10 anni di garanzia su questo prodotto. Volevo aggiungere che oltre a dare 10 anni di garanzia su questo prodotto in particolare, Immergas in Liguria dà 10 anni di garanzia su tutti i suoi prodotti, caldaia e condensazione, pannelli solari, quindi tutta la gamma dei prodotti dell'azienda. Non è solo un'esclusiva di questo prodotto, ma è proprio rivolta a tutta la gamma che comprende caldaia e condensazione, solare, sistemi ibridi, no gas e un po' tutto quello che il mercato oggi richiede.